All'innomani della diffusione delle motivazioni della sentenza sul processo trattativa parla al Tg2 il pubblico ministero Nino Di Matteo, motore dell'inchiesta. Adesso è il momento di aprire cassetti e archivi, ci dice. L'intervista è di Francesco Vitale. Questa sentenza dice, per la prima volta nella storia giudiziaria, che con ogni probabilità l'accelerazione improvvisa della strage di Via D'Amerio del 19 luglio 1992 dell'uccisione di Paolo Borsellino, è legata proprio ed è connessa proprio alla trattativa. Riina capì che lo Stato stava piegando le ginocchia e vuole dare un'ulteriore dimostrazione di forza, colpendo in quel modo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Borsellino che costituiva evidentemente un ostacolo a quella trattativa. Questo è il nostro convincimento. Comincia ad essere ancora più chiaro il movente di una strage che non fu soltanto una strage di mafia. Una strage di mafia, ma in cui purtroppo il comportamento di pezzi dello Stato ha avuto un peso importante, se non decisivo. Che cosa non dissero quei politici che erano a corto di memoria? Oggi la Corte evidenzia le dimenticanze, i ritardi nel riferire all'autorità giudiziaria, circostanze importanti, da parte di molti esponenti istituzionali dell'epoca. Penso al ministro Martelli, penso all'onorevole Violante, che era presidente della Commissione parlamentare antimafia, alla dottoressa Ferraro, che successe a Giovanni Falcone alla direzione generale degli affari penali, alla dottoressa Contri, all'epoca segretario generale della presidenza del Consiglio, al ministro Conso, che nel 1993 decise di non prorogare 334 decreti di 41 bis. Si tratta ovviamente del processo di primo grado, questo va detto, però è un punto importante. Adesso cosa vi aspettate? Che vengano aperti quei cassetti che probabilmente sono rimasti chiusi. Io ricordo quando siamo andati nelle sedi dei servizi, nella sede del ROS, abbiamo ordinato l'esibizione di tutti i documenti che riguardavano la trattativa, ci sono state esibite sostanzialmente cartelle vuote. Io non credo che, rispetto a una trattativa che oggi la Corte dice che ci fu, quegli organismi istituzionali non abbiano documentazione che possa oggi essere utile a capire ancora meglio quello che accadde.